La notizia del giorno che un po' tutti i siti stranieri e italiani vi stanno riferendo è che Shane McMahon sarà a WrestleMania 38, non sappiamo in quale veste. Ora, secondo me non è una cosa così importante se avete seguito il mio periscopio, la mia analisi su quanto è accaduto la Royal Rumble. Vi ricorderete, pare che ci fosse stato del caos nel backstage e questo è anche teoricamente possibile, con una rottura però strombazzata un po' ovunque tra Shane e il padre. Tanto che il figlio di Vince, che avrebbe dovuto partecipare alla rissa reale, in realtà non è stato coinvolto e poi è stato allontanato. E allora, ecco, Shane McMahon andrà in una elite, grande rottura, Vince neanche col figlio va d'accordo. Io vi dissi, tranquilli, state calmi, non seguite la strada dei meme, perché Shane, per quanto non sia in linea di successione quello che erediterà la WWE, questo spetterà, salvo imprevisti e casualità, Stephanie McMahon, non venderà il patrimonio del nome di famiglia per fare qualcosa in contrapposizione con Vince, o almeno non lo farà adesso, seguendo questi rumors. Tant'è che qualche giorno dopo Shane aveva addirittura rappresentato la WWE, incontrando alcuni owners, alcuni proprietari di franchigie, ce n'era una di rugby, ad esempio, con le quali la federazione di wrestling della sua famiglia aveva e ha intenzione di aprire delle partnership. Tra l'altro giravano un sacco di rumors contrastanti tra di loro, ovvero che Shane avrebbe voluto affrontare Seth Rollins a Wrestlemania, poi no, non era Seth Rollins, era Bobby Lashley, poi no, non era Bobby Lashley, ma era un altro. Insomma, c'era una grande macedonia, una grande insalata di voci di corridoio. Quindi, non c'è mai stato, secondo me, questo allontanamento, così come la sua convocazione a Wrestlemania 38, non significhi che c'è, per forza di cose, un riavvicinamento. Shane è sempre stato così. Uno che entra e esce, uno che ha il piede in tante scarpe, uno che fa lavori televisivi, fa lavori di rappresentanza, oltre a quelli che ha svolto all'interno della WWE. Quindi, sarà Wrestlemania? Pare di sì. Pare che ci sarà perché è convocato dalla WWE, che gli paga l'aereo, le spese e via dicendo. Potrebbe fare qualcosa, anche nel ring. Cioè, Seth Rollins, che non ha un avversario, tutti si aspettano Cody Rhodes, pensate se dovesse uscire Shane McMahon. Ryan, oppure se dovesse uscire Gabriel Stevenson, o Jinder Mahal. No, Jinder Mahal non credo. Vir, eh? Il mitico Vir. No, non credo neanche lui. Però, insomma, Sarah Lee farà qualcosa. Magari aiuterà dietro le quinte. Magari, invece, sarà impegnato, effettivamente, in un qualche modo, nelle main card. Però, ecco, io non la vedrei come il ritorno all'ovile del figlio al prodigo. Almeno, non in questa occasione. Secondo me, Shane è sempre stato marchiato da WWE in questi mesi. Ne ho anche avuto e condiviso con voi le testimonianze. Semplicemente, la news è che sarà a Vrestelmania. Poi, magari, neanche lo vedremo durante le due nottate dello show. Però, sarà lì. A fare cosa? Beh, lo scopriremo tutti insieme, tra pochi giorni. Ah, a proposito, mi state ancora chiedendo dove si vede Vrestelmania. Come, dove, quando. Ragazzi, qua sopra ho fatto passare il link, eh? Mi raccomando. E faccio la live reaction su Twitch a mezzanotte, sia sabato che domenica. Sabato che è già domenica, e domenica che è già lunedì. Però, se vi va, guardatela sul WWE Network e seguitela con la mia live reaction. E vabbè, per ora è tutto. Grazie.